Io trovo vergognoso che in Italia si faccia un corteo di individui che vestiti da kamikaze berciano infami ingiuri a Israele, alzano fotografie di capi israeliani sulla cui fronte hanno disegnato una svastica, incitano il popolo a odiare gli ebrei e che pur di rivedere gli ebrei nei campi di sterminio, nelle camere a gas e nei forni crematori di Takao e di Mauthausen e di Bukvalde e di Bergen-Belsen venderebbero a un harem la propria madre. Io trovo vergognoso che la Chiesa Cattolica permetta ad un vescovo, peraltro alloggiato in Vaticano, uno stinco di santo che a Gerusalemme venne trovato con un arsenale di armi ed esplosivi nascosti in speciali scomparti della sua sacra Mercedes, di partecipare a quel corteo e piazzarsi a un microfono per ringraziare in nome di Dio i kamikaze che massacrano gli ebrei nelle pizzerie e nei supermarket, chiamarli martiri che vanno alla morte come a una festa. Io trovo vergognoso che in Francia, la Francia del Liberté, Galité, Fraternité, si bruscino le sinagoghe, si terrorizzino gli ebrei, si profanino i loro cimiteri. Trovo vergognoso che in Olanda, in Germania, in Danimarca, eccetera, i giovani sfoggino il caffia come gli avanguardisti di Mussolini sfoggiavano il bastone e il distintivo fascista. Trovo vergognoso che in quasi tutte le università europee gli studenti palestinesi spadroneggino e alimentino l'antisemitismo, che in Svezia abbiano chiesto di ritirare il premio Nobel per la pace concesso a Simon Perez nel 1994 e concentrarlo sulla colomba col ramoscello d'olivo in bocca. Ciò è sua era fatta. Trovo vergognoso che gli esimi membri del comitato, un comitato che, a quanto pare, anziché il merito premia il colore politico, abbiano preso in considerazione la richiesta e pensino di esodirla. All'inferno il premio Nobel è onore a chi non lo riceve. Io trovo vergognoso, siamo di nuovo in Italia, che le televisioni di Stato contribuiscono al risorto antisemitismo, piangendo solo sui morti palestinesi, facendo la tara ai morti israeliani, parlando in modo sbrigativo e spesso in tono svogliato di loro. Trovo vergognoso che nei loro dibattiti ospitino con tanta deferenza e mascalzoni col turbante o col caffia che ieri inneggiavano alla strage di New York ed oggi inneggiano alle strage di Gerusalemme, di Haifa, di Natalia, di Tel Aviv. Trovo vergognoso che la stampa scritta faccia lo stesso, che si indigni perché a Betlemme i carri armati israeliani circondano la chiesa della natività, che non si indigni perché nella medesima chiesa 200 terroristi palestinesi ben forniti di mitra e munizioni ed esplosivi, tra loro vari capi di Amassa e di Al-Aqsa, siano non sgraditi ospiti dei frati che poi dai militari dei carri armati accettano le bottiglie d'acqua minerale e il cestino di mele. Trovo vergognoso che dando il numero degli israeliani morti dall'inizio della seconda intifada, 412, un noto quotidiano abbia ritenuto giusto sottolineare a gran lettere che nei loro incidenti stradali ne muoiono di più, 600 all'anno. Io trovo vergognoso che l'osservatore romano, cioè il giornale del Papa, un Papa che non molto tempo fa lasciò nel muro del pianto una lettera di scuse per gli ebrei, accusi di sterminio un popolo sterminato a milioni dai cristiani, dagli europei. Trovo vergognoso che i sopravvissuti di quel popolo, gente che ancora è il numero tatuato sul braccio, quel giornale neghi il diritto di reagire, difendersi, non farsi sterminare di nuovo. Trovo vergognoso che in nome di Gesù Cristo, un ebreo senza il quale oggi sarebbero tutti disoccupati, i preti delle nostre parrocchie o centri sociali o quel che sono. Amoreggino con gli assassini di chi a Gerusalemme non può arrecarsi a mangiare la pizza o a comprare le uova senza saltare in aria. Trovo vergognoso che si stiano dalla parte dei medesimi, che inaugurarono il terrorismo ammazzandoci sugli aerei, negli aeroporti, alle Olimpiadi e che oggi si divertono ad ammazzare i giornalisti occidentali, a fusilarli, a rapirli, a tagliargli la gola, a decapitarli. Dopo l'uscita della rabbia e l'orgoglio qualcuno in Italia vorrebbe farlo anche a me. Citando versi del Corano esorta i suoi fratelli delle moschee e delle comunità islamiche a castigarmi in nome di Allah, a uccidermi, anzi a morire con me. Poiché è un tipo che conosce bene l'inglese, in inglese gli rispondo facchio. Io trovo vergognoso che quasi tutta la sinistra, quella sinistra che venti anni fa permise a un suo corteo sindacale di deporre una bara, quale mafioso avvertimento, dinanzi alla sinagoga di Roma, dimentichi il contributo dato dagli ebrei alla lotta antifascista, da Carlo Ennello Rosselli per esempio, da Leone Ginzburg, da Umberto Terracini, dalle Ovaliani, da Emilio Sereni, dalle donne come la mia amica Anna Maria Enrico Ezzagnoletti, fucilata a Firenze il 12 giugno 1944, dai 75 dei 335 uccisi alle fosse ardiatine, dagli infiniti altri morti sotto le torture o in combattimento o dinanzi ai plotoni di esecuzione. I compagni, i maestri della mia infanzia e della mia giovinezza. Trovo vergognoso che anche per colpa della sinistra, anzi soprattutto per colpa della sinistra, pensa alla sinistra che inaugura i suoi congressi applaudendo il rappresentante dell'OLP, in Italia il capo dei palestinesi che vogliono la distruzione di Israele. Gli ebrei delle città italiane abbiano di nuovo paura e nelle città francesi e olandesi e danesi e tedesche eccetera lo stesso. Trovo vergognoso che al passaggio dei mascalzoni vestiti da kamikaze tremino come a Berlino tremavano la notte dei cristalli, cioè la notte in cui Hitler avviò la caccia all'ebreo. Io trovo vergognoso che obbedendo alla stupida, vile, disonesta e per loro vantaggiosissima moda del politically correct, i soliti opportunisti, anzi i soliti parassiti, sfruttino la parola pace. Che in nome della parola pace, ormai più sputtanata delle parole amore e umanità, assolvano da una parte sola l'odio e la bestialità. Che in nome d'un pacifismo, legge conformismo, delegato ai grilli canterini, ai giullari, che prima le cavano i piedi a polpotta, aizzino la gente confusa, o ingenuo, o intimidita, che la imbroglino, la corrompano, la riportino indietro di mezzo secolo, cioè alla stella gialla sul cappotto. Questi ciarlatani, ai quali dei palestinesi importa quanto a me importa di loro, cioè nulla. Io trovo vergognoso che tanti italiani e tanti europei abbiano scelto come vessillo il signor Arafat. Questa nullità che grazie ai soldi della famiglia reale saudita fa il Mussolini ad perpetuum e che nella sua megalomania crede di passare alla storia come il George Washington della Palestina. Questo sgrammaticato che quando lo intervisti non riesce nemmeno a compilare una frase completa, un discorso articolato, sicché per ricomporre il tutto duri una fatica tremenda e concludi che, paragonato a lui, perfino Gheddafi diventa Leonardo da Vinci, questo falso guerriero, che va sempre in uniforme come Pinochet, mai che indossi un abito civile e che tuttavia non ha mai partecipato a una battaglia. La guerra la fa fare, l'ha sempre fatta fare agli altri, cioè poveracci che credono in lui. Questo pomposo incapace che, recitando la parte del capo di Stato, ha fatto fallire i negoziati di Camp David, la mediazione di Clinton. No, no, Gerusalemme la voglia tutta per me. Questo eterno bugiardo, che ha uno sprazzo di sincerità soltanto quando, en privé, nega Israele il diritto di esistere e che si smentisce ogni cinque secondi, che fa sempre il doppio gioco, mentre perfino se gli chiedi che ora è, sì che di lui non puoi fidarti mai, mai, da lui finisci sistematicamente tradito. Questo eterno terrorista, che sa fare solo il terrorista, stando al sicuro lui, e che negli anni settanta, cioè quando lo intervistai, addestrava pure i terroristi della Bader-Meinhoff, con loro i bambini di dieci anni. Poveri bambini. Ora li addestrano per farne kamikaze. Cento baby kamikaze sono in cantiere. Cento. Questa Banderuola, che la moglie la tiene a Parigi, servita e riverita come una regina, e che il suo popolo lo tiene nella merda. Dalla merda lo toglie soltanto per mandarlo a morire, a uccidere e a morire, come le diciottenni che per meritarsi l'uguaglianza con gli uomini devono imbottirsi d'esplosivo e disintegrarsi con le loro vittime. Questo presunto rivoluzionario, che al suo popolo non ha saputo dare neanche un po' di democrazia. Non dico la democrazia completa che governa Israele, dico un po' di democrazia. Eppure, tanti italiani lo amano, sì. Proprio come amavano Mussolini. Tanti altri europei lo stesso. Lo trovo vergognoso, sì. E vedo in tutto ciò il sorgere di un nuovo fascismo, di un nuovo nazismo. Un fascismo nazismo tanto più bieco e ributtante, in quanto condotto e nutrito da quelli che fanno i buonisti, progressisti, comunisti, i pacifisti, i cattolici, anzi cristiani. E che hanno la sfacciataggine di chiamare guerra fondaio chi come me grida la verità. Chi come me contro la guerra ha sempre gridato quanto loro non oserebbero mai. Lo vedo il sorgere del nuovo incubo, sì. E dico ciò che segue. Io, col tragico shakesperiano Sharon, non sono mai stata tenera. Lo so che è venuta ad aggiungere uno scalpo alla sua collana, mormorò quasi con tristezza quando andai a intervistarlo nel 1982. Con gli israeliani ho litigato spesso, di brutto. E in passato i palestinesi li ho difessi parecchio. Forse più di quanto meritassero, anche considerando che durante la seconda guerra mondiale favorivano i tedeschi di Hitler. Però sto con Israele, sto con gli ebrei. Ci sto come ci stavo da ragazzina. Ciò al tempo in cui combattevo con loro, nelle Anne Marie morivano fucilate. Difendo il loro diritto ad esistere, a difendersi, a non farsi sterminare una seconda volta. È disgustata dall'antisemitismo di tanti italiani, di tanti europei. Mi vergogno di questa vergogna che disonora il mio paese e l'Europa. Nel migliore dei casi, l'Europa non una comunità di stati, ma un pozzo di ponzi pilato. Ed anche se tutti gli abitanti di questo pianeta la pensassero in modo diverso, io continuerò a pensarla così.